Qualcuno si è introdotto all'interno dell'impianto di nave e ha sottratto e ha tagliato i catalizzatori che si trovano sulle marmitte, proprio in questo punto qua sui mezzi porter adibiti al servizio. Nuovo furto di marmitte catalitiche nella notte, dopo l'ultimo colpo messo a segno poche settimane fa all'ascite di Capannori, Stavolta i ladri si sono introdotti nella sede di sistema ambiente a nave, dove hanno rubato 22 catalizzatori da altrettanti furgoncini utilizzati per la raccolta porta a porta. Un fenomeno che negli ultimi tempi è in ascesa. I malviventi cercano di racimolare pochi grammi di metalli preziosi, il palladio e il platino, che si trovano nei catalizzatori. Pochi grammi che spesso però hanno un valore considerevole. Il furto, che ha provocato un danno di alcune migliaia di euro, è avvenuto sulla falsa riga di quelli subiti anche dalle altre aziende del settore, dopo l'ultimo all'ascite e prima ancora alla Erzu di Massarosa, quello di qualche giorno fa alla Geofor di Pisa. A causa di questo inconveniente, soprattutto per l'impossibilità di sostituire le marmitte in tempi brevi, proprio perché lo stesso furto è stato subito anche da altre aziende del territorio, rendendo così difficile il riperimento dei ricambi, Sistema Ambiente fa sapere che i servizi di raccolta e di spazzamento potrebbero subire qualche modifica di orario. Questi sono tutti i veicoli che sono stati messi in questa posizione perché andranno rottamati a breve e oltre a questi veicoli rottamati avevamo anche dei veicoli che usiamo per il porta a porta normalmente. E a tutti questi veicoli sono stati trasportati i catalizzatori, a tutti quanti, dal primo all'ultimo, li hanno fatti tutti.